Piduo, perché c'è un morto ai posti, faccio giocare, faccio giocare, come i cazzati devi sapere tutto il mondo, fate fare normale, mica sembra una partita ufficiale, una partita pichevole, eh, se era ufficiale, sai che ci posta la torre là, hai fatto torre F8, hai capito? E io faccio arrocco, arrocco, arroccati, che vengo io, arroccati, che vengo io, arroccati, f5, è pazzo, aprile colori centrale con il re scoperto al centro senza possibilità di arroccare, ha fatto il suicida, una posta suicida, resisterà 3-4 volte, difficile, difficile, ha fatto una pazzia, ha fatto F5, minimo è un punto interrogativo, ma penso 2, penso 2, comunque muoveremo, un attimo, giudo qua, e...